ciao ciao a tutti bentornati e benvenuti sul canale oggi volevo parlarvi dei detersivi che in questo momento mi stanno piacendo di più per la maggior parte sono detersivi lavatrice con ammorbidenti annessi e connessi e due detersivi che ho utilizzato per per la casa qui fa un freddo becco c'è aria di neve veramente e io spero che qualche fiocco scenda ma mi sa che non scenderà e quindi iniziamo allora l'unico intruso per questo gruppo di detersivi è un detersivo per il forno che ho acquistato al euro spin io della marca dual power non trovo nulla negli altri discount trovo solo i due detersivi per la lavatrice quello per i capi colorati quello che per i capi neri che vi ho detto che secondo me sono i migliori e li utilizzo sempre a meno che non abbia qualche offerta che ho trovato però generalmente sono quelli che compro e ricompro e secondo me soprattutto di dual power il detersivo per i capi neri è imbattibile lascia i capi igienizzati ben puliti profumati mi trovo benissimo al pari delle stra grandi marche anzi direi che non è equiparabile neanche alle grandi marche io mi trovo benissimo e continuo a ricomprarlo facendo un giretto da euro spin qualche tempo fa ho trovato che era una novità in offerta questo dual power forni e grill io utilizzo moltissimo il forno soprattutto nella stagione più fredda perché pane torte biscotti carni stufati cioè faccio tutto passare in forno poi e pizzoccheri lasagne e quant'altro e quindi il mio forno si sporca spesso e mi fa una balla lavarsi cioè pulire sempre il forno devo smontare poi lo vetro il mio è tra l'altro un forno grande da 90 centimetri o forse di più ho preso la cucina a sei fuochi quando sono venuta nella casa nuova con un forno grande perché quando faccio da mangiare la domenica generalmente siamo in tanti e a natale altrettanto quindi ho optato era proprio un mio sogno per la cucina smeg quella a sei forni con il forno grande però veramente si sporca e va pulito ebbene allora questo è un portento un portento pulisce che è una meraviglia io non sono solita utilizzare i guanti in cucina cioè non utilizzo mai per le pulizie i guanti è un mio difetto non lo so non riesco mi sembra di avere meno tatto mi sembra che le cose mi scivolino dalle mani e preferisco lavorare sempre senza senza guanti vi consiglio per questo di utilizzarli perché vi brasa anche le unghie e scioglie lo sporco in una maniera veramente indescrivibile è buonissimo l'ho provato sia sul forno sia nel forno a microonde che utilizzo principalmente per scaldare non per cuocere e devo dire che mi ha stupito ho provato tantissimi altri prodotti per pulire il forno perché è un po la mia mania ma non mi sono trovata mai così bene quindi se lo trovate adesso di questo io non ricordo il prezzo perché l'ho comprato davvero forse due mesi fa e non l'avevo ancora messo in utilizzo perché stavo finendo gli altri prodotti ma effettivamente è un prodotto per me top se qualcuno di voi l'ha utilizzato mi faccia sapere se si è trovato bene o se sono solo io che ho questa fissa ma secondo me scioglie la qualunque ma veramente la caluccia vi scioglie anche le mani e quindi assolutamente da usare con i guanti perché ho fatto la prova senza guanti insomma le mani mi bruciavano tantissimo però devo dire che il forno viene una meraviglia e soprattutto rimane mi sembra più pulito non rilascia dovete sciacquare molto molto bene è un pomeriggio in cui piove non avete nulla da fare vi pulite il vostro forno sciacquate per bene e non rimangono residui di odore quando poi lo accendete si riscalda assolutamente però bisogna avere proprio l'accortezza di sciacquare bene questo per me è imbattibile fantastico spero di trovarne ancora perché adesso sono arrivata più o tre pulizie e voglio prenderne un altro di scorta perché mi sono trovata davvero davvero benissimo veramente veramente buono e questo diciamo è l'unico prodotto che esula dagli altri per marca perché adesso vi voglio parlare dei prodotti che ho acquistato qualche mese fa se vi ricordate vi avevo detto che avevo fatto un ordine grosso su seal e sul sito sullo shop online di seal e ho avuto il tempo di provarli e di potervene parlare allora io ho acquistato un bel po di prodotti un po di ammorbidenti un po di profumatori un po di detersivi per la casa e un po di detersivi per la lavatrice allora ho conosciuto il marchio seal grazie a due amiche di youtuber che sono elisabetta r e meli melania di meli mad in sud e proprio grazie ai loro commenti alle loro recensioni ho voluto provare ad acquistare online io nei miei discount so che principalmente sia da md che da euro spin si trovano alcuni prodotti non sempre ma a volte escono i prodotti di seal purtroppo nei miei discount non ci sono e allora ho azzardato un acquisto online e ho azzardato bene anzi non bene benissimo per correttezza vi dico che ho ordinato ed ho usufruito di uno sconto che ha offerto elisabetta ho chiesto a lei il permesso di poter linkare il suo video dove parla di seal e di potervi dire lo sconto lei mi ha detto tranquillamente di farlo io poi sotto in info box vi darò le informazioni ma oltre che utilizzare lo sconto se volete poi fare un acquisto online vi chiedo anche di andare a vedere i recensioni che sono veritiere e molto ben molto ben fatte e proprio grazie a questi video io ho acquistato questi prodotti allora seal è innanzitutto un'azienda italiana italianissima che si trova a catania nel paese di belpasso nasce negli anni sessanta prima di come piccola bottiga nel centro storico di catania poi pian piano si ingrandisce il fatturato aumenta cominciano a entrare soci e diventa un'azienda davvero molto molto importante per quanto riguarda tutto quello che è la detersione della casa ma sono andata a curiosare e ho visto anche che c'è un una divisione di questa azienda che si chiama farmalize e tratta di bagnoschiuma e di qualche anche disinfettante a livello medico chirurgico insomma comunque vi lascio nel sempre nell'info box tutti i riferimenti per poter andare a curiosare leggere bene la scheda della storia dell'azienda che è un'azienda familiare e se poi volete provare i prodotti io vi consiglio caldamente di provarli perché sono ottimi veramente da 10 elode almeno quelli che ho provato io allora qui vi farò vedere un estratto di quello che io ho comprato ho comprato come vi dicevo tanti ammorbidenti tanti profumatori per biancheria detergenti per la casa non ve li mostro tutti non perché non siano buoni ma perché secondo me sono al pari di quelli che riusciamo a trovare anche pubblicità eccomi scusate ho bloccato la telefonata e ho messo anche in silenzioso vi dimentico sempre allora vi stavo dicendo che ho comprato varie referenze di questa azienda le ho provate sono tutte buone mi sono trovata con tutti bene questi sono proprio secondo me i prodotti con i quali io mi sono trovata meglio allora vi parlo del ammorbidente concentrato sia il green ammorbidente concentrato aloe e peona bianca 30 lavaggi ipoallergenico il testato contro il nickel il cromo e il cobalto con ingredienti di origine vegetale totalmente biodegradabili quindi c'è proprio anche un occhio di rispetto verso la natura e il nostro mondo martoriato da tante cose mi sono trovata bene perché perché è vero che è concentrato sì è abbastanza denso come potete vedere non è liquido il suo profumo si sente si sente diciamo non in maniera molto forte e neanche fastidiosa il profumo è delicato rimane sui capi quando li lavate anche quando si asciugano soprattutto se li asciugate con l'asciugatrice ma la cosa che mi è piaciuta è che lascia i capi veramente molto 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 morbidi al pari di altri ammorbidenti quasi quasi sapete che io ho una venerazione per il fabuloso lo paragonerei al fabuloso forse come profumazione leggermente meno intensa ma si sente è un profumo che si sente mi è piaciuto davvero davvero tanto e adesso vi dico anche i prezzi perché mi li sono segnati vediamo ammorbidente concentrato 1 euro e 39 per 750 ml di prodotto quindi questo ve lo consiglio c'è in tante altre profumazioni quando ho fatto l'acquisto io sul sito non ho trovato proprio tutte le referenze e quindi ho scelto quelle che erano ovviamente a disposizione sempre per parlare di profumatori si al essenze per bucato e pavimenti buonissime 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 ne ho presi di tre profumazioni questa è quella alla profumazione classica quindi alla profumazione proprio di pulito buonissima io ne metto qualche goccia un 4-5 gocce nella vaschettina dell'ammorbidente e l'ho provato ad utilizzarla anche quando lavo il pavimento insieme magari alla candeggina delicata se devo proprio disinfettare il pavimento della cucina perché c'è Codi insomma nei paraggi comunque Codi generalmente sta in cucina non sale negli altri piani e mi è piaciuto molto profumazione intensa direi assolutamente tra l'altro di non eccedere soprattutto nel lavaggio della lavatrice perché potrebbe diventare fastidiosa è veramente molto molto concentrata questi sono 50 lavaggi ma io penso di averne fatti anche di più perché ne metto proprio non tantissimo ecco e sono 250 ml e costano 6,99 euro potrebbe sembrarvi un pochino caro in confronto a quelli che ci sono in commercio ma io vi assicuro che i capi sono davvero molto molto profumati se volete abbondare provate insomma però mi è piaciuto mi è piaciuto tantissimo vi lascio poi per ultimo quelli che sono secondo me i must di questa azienda altro detersivo che ho provato e che mi è piaciuto tantissimo sto finendo la prima confezione e ho iniziato la seconda è enzima active lavatrice bianco vivo colori brillanti quindi lo potete utilizzare sia sui capi bianchi sia sui capi colorati io l'ho utilizzato in entrambi i modi mi è piaciuto tantissimo lo paragono al dual power che vi dicevo prima ecco potrebbe essere proprio sullo stesso livello mi è piaciuto mi è piaciuto davvero tanto il profumo questo ha un profumo si qui dice fior di loto si fior di fiori bianchi un profumo fresco un profumo delicato il suo colore è un rosina trasparente come il tappo della della bottiglia attivo già a 30 gradi lo posso confermare perché io i capi scuri li lavo a 30 gradi non rimangono assolutamente odori strani nella lavatrice né quando si stendono soprattutto i capi scuri a volte può succedere mi è capitato di lavare ultimamente i vestiti appunto di mattia che sapete ha smesso di fare il caveriere ma fino a settimana scorsa un giorno sì e un giorno no i suoi vestiti erano da lavare perché era una patatina fritta vivente e devo dire che anche a 30 gradi i capi rimangono puliti profumati mi piace mi piace tantissimo sono 30 lavaggi allora io non ho calcolato i lavaggi che ho fatto con quello precedente forse ne ho fatto un po' meno perché la mia lavatrice è da 8 kg e quindi quando chiaramente riempio il dosatore ne metto un pochino di più perché non è diciamo il carico classico della lavatrice anche se con i colorati il carico ovviamente è inferiore questo l'ho pagato vediamo se me lo sono segnato 2 euro e 99 il prezzo mi sembra molto conveniente per un prodotto direi di qualità di super qualità veniamo al penultimo detergente detersivo per la lavatrice più che detersivo scusate ho sbagliato questo è un igienizzante anticalcare lo amo lo amo alla follia peccato che ne ho comprato solo una confezione adesso prima di Natale o dopo Natale comunque farò subito un nuovo ordine perché questo secondo me è buonissimo a me dà l'impressione che da quando lo utilizzo i capi mi vengano più puliti mi danno proprio l'impressione di essere più puliti più igienizzati mi piace tantissimo buono ha un profumo molto fresco non di fiori un profumo quasi medicamentoso mi viene in mente una crema una crema che si mette per lo strappo dei muscoli cioè ha un profumo da farmacia quasi insomma elimina il calcare protegge la lavatrice protegge i tessuti fantastico 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 io nella mia lavatrice ne metto due o tre tappini di questo dipende dal carico della lavatrice e mi sto trovando benissimo e sicuramente di questo io farò scorta ottimo ottimo prodotto e questo gel anticalcare igienizzante 2,29 euro per un litro e 250 ml di prodotto direi che insomma il rapporto qualità prezzo è ottimo ah ecco non vi ho detto questo quanto era 30 lavaggi per un litro e mezzo di prodotto veramente veramente buone veniamo ai primi tre al terzo posto che secondo me comunque è equivalente terzo posto entrambi io ci metto questo aceto power mille usi anticalcare acciaio e cromature brillanti vero vero come vi dicevo prima io ho la mania di avere sempre pulita cioè non che le altre persone non lavino la la cucina gas però posso avere in giro il mondo posso avere la casa disordinata ma io la cucina gas la devo avere sempre pulita avere la cucina gas pulita per me è indice cioè avere la cucina intera il locale intero pulito anche se so che non è vero e a volte magari sono in velocità quindi questo prodotto l'ho trovato ottimo perché fa poca schiuma si risciacqua velocemente toglie le macchie di calcare igienizza e profuma attenzione però perché il profumo in questo prodotto il profumo dell'aceto si sente particolarmente io non sento molto la mela sento tantissimo l'aceto a me il profumo di aceto non dà fastidio e piace perché mi dà l'impressione di quel profumo di pulito di igienizzato di disinfettato però magari a qualcuno potrebbe dare fastidio qui si sente parecchio si sente parecchio le macchie di calcare vengono via in una velocità pazzesca è facilissimo da risciacquare mi piace tantissimo l'ho utilizzato anche per il bagno l'altro giorno andavo in velocità ho proprio fatto due o tre spruzzatine su un un panno di microfibra umido ho passato il mio bagno che profumava di aceto in maniera pazzesca e mi ha lasciato sia la vasca di ceramica la vaschetta di ceramica che ho nei bagni di servizio sia tutti la rubinetteria splendida pulita profumata bella lucida mi è piaciuto davvero tanto e questo ve lo consiglio e questo io l'ho pagato vediamo 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 Sial Aceto Power 1,59 euro per 750 ml di prodotto buonissimo ed ora veniamo alle prime postazioni della classifica questo è rinomatissimo ve l'ho portato nuovo perché gli altri due che avevo preso li ho finiti sapone ecologico per bucato Sial questo penso sia il prodotto più famoso dell'azienda che è un prodotto davvero meraviglioso un prodotto che io ho utilizzato sia per il lavaggio a mano dei capi avevo una camicetta di seta due maglioncini che Mattia aveva fatto per da regalare a due bambini appena nati l'ho utilizzato sia in lavatrice sia per i bianchi che per gli scuri l'ho utilizzato per lavare il pavimento proprio due gocce di detersivo e l'acqua calda l'ho utilizzato adesso non vorrei dire una sciocchezza come aveva indicato meli meli ma in sud per pulire anche il legno mi pare sia stata lei a dare questa indicazione però era una cosa che avevo visto nei primi video all'inizio della mia apparizione su youtube e praticamente ho preso una bacinella di acqua calda e ci ho messo qualche goccia di di questo detersivo poi ho passato con un panno in microfibra le mie vecchie credenze i miei mobili che non sono antichi ma sono vecchi e poi dopo averli asciugati con un panno in lana ho passato la cera che faccio una volta all'anno non è che io faccio queste attività tutti i giorni però quella volta che mi viene lo schizzo di essere una casalinga perfetta faccio anche queste cose e devo dire che pulisce tra l'altro mi ha tolto veramente anche tutta quella patina di di grasso ma perché questi mobili la maggior parte di questi mobili vecchi io li ho in cucina ah ecco poi io ho passato anche tutta la il corrimano di noce che ho nei miei tre piani di scala la mia casa è una casa degli anni 30 e quando l'abbiamo ristrutturata abbiamo voluto mantenere la scala originale in ferro battuto con il sasso sulle pedane dei gradini e la la ringhiera bellissima in ferro battuto con il corrimano in noce ovviamente salendo ci appoggiamo spessissimo le mani e quindi la mano si è pulita però il sudore non è che tutti i momenti ci si lava le mani e una volta ogni tanto io passo questo acqua un po' di detergente viene via tutta la patina di sporco rimane veramente il corrimano come quando l'abbiamo ristrutturato diciamo perché quando poi erano arrivati i falegnami li avevano pulito li avevano sistemato ed è veramente veramente un ottimo un ottimo prodotto questo è proprio il must il must si dice così il prodotto secondo me più famoso di questa azienda perché l'ho visto veramente tante volte recensito e posso dire che effettivamente è proprio proprio buono buonissimo se potrei azzardare io l'ho trovato molto meglio del famosissimo prodotto che è quasi uguale sia in confezione che di colore e sapete già di quale prodotto sto parlando primo in assoluto in assoluto in assoluto lo sto centellinando lo uso solo nei casi particolari e perché vi dico che per me il prodotto più buono sono tutti buoni ma io questo l'ho provato e vi dico anche in che situazione l'ho provato il Mauri andando a fare una passeggiata con Codi è caduto rovinosamente a terra e si è sfracellato a mezzo braccio quando è tornato a casa aveva la camicia azzurra di un cotone leggerissimo completamente sporca di sangue perché si era diciamo sbucciato tutto il gomito un pezzo di spalla quindi avevo tutto questo pezzo di camicia con delle macchie di sangue così stupidamente io non l'ho messa subito a bagno perché vabbè poi lui si è cambiato l'ha lasciata in lavanderia e io il giorno dopo forse anche due giorni dopo mi sono ricordata che avevo la camicia sporca di sangue come la mia mamma mi ha insegnato io quando ho delle macchie di sangue e soprattutto se le macchie di sangue non sono fresche le metto a bagno in una bacinella con dell'acqua calda e un po' di sale acqua calda non troppa cioè acqua tiepida e un po' di sale e generalmente poi butto in lavatrice e mi viene via ho detto faccio una prova quindi avevo questa camicia con delle macchie di sangue che ormai erano secche perché erano due giorni che erano lì ho spruzzato questo prodotto non ho sfregato quando ho fatto la lavatrice ero in attesa come una persona che sta per partorire volevo vedere come fosse uscita la camicia non c'era un alone dello sporco di sangue camicia pulitissima fantastico questo prodotto per me è fantastico lo uso sulle camicie allora adesso siccome è l'unico che ho lo sto veramente centellinando quindi lo uso solo sulle camicie di Paolo sugli asciugamani che hanno delle macchie sporche della cucina che ne so pomodoro piuttosto che una macchia di olio sulle tovaglie ma è favoloso favoloso ah non vi ho detto il prezzo dell'altro adesso ve lo dico questo 750 ml di prodotto costa 1,99 euro li vale tutti e vale anche il doppio secondo me li vale tutti è fantastico e io ne prenderò almeno 10 confezioni la prossima volta che li compro euro 1,99 euro anche per questo e io direi che è proprio un prezzaccio per questi prodotti che sono veramente ottimi 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 bene ho finito la mia carrellata di prodotti sia buonissimi più un intruso vi consiglio di fare un giretto su questo sito perché ci sono davvero tantissimi prodotti io purtroppo l'altra volta appunto non ho avuto occasione di provare altre cose perché tante erano già erano finite insomma non erano disponibili spero che qualcosa sia tornato disponibile anche di nuovo perché vorrei provare altre altre referenze penso che sia un onore per noi italiani avere delle aziende italiane che producono prodotti di alta qualità a prezzi veramente convenienti e questo fa bene alle tasche di tutti soprattutto in questo momento particolare bene vi lascio tutte le informazioni nell'info box mi raccomando ricordatevi di guardare sempre l'info box perché quando riesco vi lascio tutto lì vi ringrazio per essere arrivati fino a qui volevo anche ringraziarvi perché nell'ultima settimana ho visto che i numeri del canale degli iscritti sono veramente aumentati di tanto e questo grazie anche alle tante amiche e ai tanti amici che mi taggano in modo che possano conoscere il mio canale e mi permetto però di ringraziare in particolare la mia amica Melania di Melima Densud che mi ha taggato in un video dove anche lei si è fatta conquistare dalla palettina di Pupa e quindi dopo averla vista sul mio video l'ha acquistata e mi ha taggato e proprio su questa cosa avremo una sorpresa insieme io e Melima lo vedrete tra pochi giorni e quindi devo dire che tanti amici presumo si siano iscritti dopo che lei abbia parlato di me quindi davvero grazie grazie di questa condivisione grazie di questa amicizia che anche se è solo virtuale diventano sempre belle e diventano sempre più profonde e nulla adesso vado a pulire la cucina con i miei prodotti perché ho girato il video proprio per farvi vedere queste novità e continuo con le mie faccende casalinghe vi ringrazio vi abbraccio e vi aspetto nel prossimo video ciao buon pomeriggio ciao